Io sono Francesco Petrucci del liceo scientifico di Foligno e vi presento il professor Silvano Tagliagambe. Il professore ha studiato filosofia alla Statale di Milano e poi ha proseguito i suoi studi specializzandosi prima in fisica quantistica all'università Lomonosov di Mosca e poi in filosofia della scienza presso l'Accademia delle Scienze dell'URSS. È stato professore in diversi Atenei italiani, tra cui l'Università di Pisa, Cagliari, Sasseri e anche la Savienza di Roma. È attualmente professore merito di scienza della filosofia. È inoltre direttore di varie collane, tra cui filosofia della scienza della RACN editrice e didattica del progetto dell'editore Franco Angeli. Visto che siamo già in ritardo, penso di dare direttamente la parola al professore per la sua conferenza che si intitola Lo spazio che siamo e viviamo, il paesaggio lingua madre. Grazie, benvenuti ragazzi. Allora, perché questo argomento e questo titolo? Per due ragioni. In primo luogo per mettere in evidenza un fatto che certamente studiando nelle sue secondarie superiori avete già messo a fuoco, e cioè il fatto che non esiste nessun tipo di oggetto di studio o di osservazione che non sia mediato da un linguaggio. Cioè non esiste nulla che noi possiamo studiare o che possiamo osservare senza che prima e necessariamente passiamo attraverso un linguaggio. Il problema della mediazione linguistica è fondamentale. E quindi anche il paesaggio nel quale nasciamo, viviamo, è qualche cosa al quale noi possiamo accedere attraverso una mediazione linguistica. E questa mediazione linguistica è in gran parte veicolata dal paesaggio medesimo. Il paesaggio è una lingua. E non solo è una lingua, ma come vedremo è la cui ciascuno di noi viene in contatto dal momento della nascita. Questo è un aspetto che è stato messo in evidenza ultimamente dalla ricerca scientifica, in particolare dalle neuroscienze, che hanno messo in evidenza il fatto che fondamentale nel rapporto dell'uomo con il mondo è il movimento. È il movimento che ciascuno di noi fa nello spazio. Quindi il movimento nello spazio è la prima forma di contatto che ciascuno di noi ha appunto con l'ambiente in cui vive. Ma l'aspetto che mi interessa, il secondo aspetto che mi interessa mettere in evidenza, è il carattere interdisciplinare delle ricerche che hanno portato appunto a questa consapevolezza del linguaggio come lingua madre, del paesaggio come lingua madre. E come vedremo a questa consapevolezza hanno contribuito non soltanto scienziati, stanno contribuendo non soltanto scienziati, ma scrittori, poeti e diciamo esponenti di vari tipi di indirizzo scientifico. Allora cominciamo questa analisi mettendo in evidenza, c'è un libro che è uscito di recente di Cepollaro e Morelli, sono due, un sociologo e un psicologo, si intitola Paesaggio Lingua Madre e parte proprio da questo presupposto. Il paesaggio è come la lingua madre, la sua presenza tacita o esplicita, riconosciuta o latente, contiene il codice originario della nostra appartenenza e ci invoca a considerarla oltre i dualismi tra mente e natura. Il motivo è semplice, non si può essere spaesati, non si può non appartenere al luogo, non si può dare senso a questo luogo. Che cosa significa? Qui c'è una critica implicita a molte posizioni filosofiche. Chi di voi ha studiato, ad esempio, o sta studiando, o sta vedendo filosofie come la filosofia heideggeriana, sa che secondo Heidegger noi siamo gettati in un ambiente che non scegliamo e in qualche modo ne subiamo l'influsso. E quindi c'è l'idea che la relazione tra l'uomo e l'ambiente sia una relazione in qualche modo subita. L'uomo subisce l'ambiente in cui vive e in cui viene appunto gettato. Ecco, queste concezioni odierne tendono a ribaltare questa visione. L'uomo non subisce l'ambiente, ma l'uomo sviluppa l'ambiente, gli dà forma, lo informa, gli dà forma secondo le proprie esigenze e secondo le proprie visioni aspettative. Un passaggio preliminare, da questo punto di vista, è stato fatto da un poeta simbolista russo, di cui voglio segnalarvi l'importanza ai fini dell'argomento di cui stiamo trattando. Si tratta di Andrei Bieli, il maggior poeta simbolista russo, è di un libro poco conosciuto quanto straordinario, che vi invito veramente a leggere, pubblicato tra il 1915 e il 1917 a puntate su una rivista e poi ripubblicato in forma di romanzo vero e proprio nel 1922. Si intitola Kotick Lietaev ed è la storia dello stesso poeta e del suo progressivo impadronirsi del linguaggio. È la storia di un bambino dal momento della nascita ai tre anni. Ed è la storia di come il linguaggio, la padronanza progressiva del linguaggio, dia forma a questo bambino. Ci sono delle cose veramente straordinarie. L'inizio, ad esempio, la mia vita cominciò nel deforme, cioè non avevo una forma, e continuò in forme. E quindi il linguaggio, che cosa fa il linguaggio nella vita del bambino? Il linguaggio dà progressivamente forma al mondo. E da questo punto di vista l'intuizione interessante e importante di Bieli, che sarà poi successivamente sviluppata dalla psicanalisi contemporanea, ad esempio da Lacan, è proprio questo, la vedete segnalata in corsivo. Il bambino nasce in forme, oscillante tra il tu sei tu e il non sei tu, tra io e non io, ancora incapace di distinguersi dagli altri e dal resto del mondo. Quindi il bambino fa corpo col paesaggio. La mancata distinzione tra io e tu, tra io e resto del mondo, significa che il bambino è fuso con il paesaggio, non ha ancora un'identità ben spiccata e quindi il bambino si riconosce nel paesaggio come uno specchio. Il bambino costruisce progressivamente la sua identità attraverso il linguaggio e attraverso l'ambiente nel quale si rispecchia. Qui c'è, da parte, ho detto, siamo nel 1915-1917, c'è una intuizione molto profonda di Bieli che è confermata, come dicevo, prima dalle neuroscienze oggi. Che cosa ci dicono le neuroscienze oggi? Ci dicono che non è soltanto e non è neanche primariamente attraverso la lingua verbale che il bambino comincia il suo contatto con il mondo. Ma il bambino e l'uomo in generale comincia il suo rapporto con il mondo attraverso il movimento e il gesto. Quindi inizialmente il bambino è soprattutto un corpo che si muove nello spazio e che muovendosi nello spazio acquisisce significati e contribuisce a dare significati allo spazio entro il quale si muove. Quindi questo dare significati trasforma progressivamente il senso del movimento. Il movimento è una forma di dinamica in qualche modo incondizionata, senza un significato ben preciso. Il bambino che si muove nello spazio esplora ed esplora senza avere ancora un significato ben preciso in testa. Via via che il bambino attraverso questo movimento e parallelamente attraverso l'acquisizione progressiva del linguaggio dà significato al mondo, conferisce significato al mondo, quindi dà forma al mondo e contemporaneamente informa se stesso, questo movimento si trasforma in azione. Quindi due concetti ben precisi. Il primo, c'è un'azione circolare. il bambino muovendosi nello spazio comincia a riconoscere e a dare dei significati allo spazio e attraverso questo processo di conferimento dei significati allo spazio contemporaneamente dà forma a se stesso, costruisce la propria identità. Quindi c'è un processo esteriore di conferimento dei significati allo spazio che contemporaneamente agisce sul mondo interiore del bambino sviluppandolo. E questo è il primo aspetto da mettere in evidenza molto importante. Il secondo aspetto che possiamo rilevare è il fatto che attraverso questa dinamica il bambino comincia, come ho detto, a trasformare il movimento in azione. Che cosa differenzia il movimento dall'azione? Il movimento, come ho detto, è una pura dinamica all'interno dello spazio, senza uno scopo ben preciso. L'azione invece è sempre finalizzata, risponde a un obiettivo e a un progetto. E quindi attraverso questo sviluppo progressivo il bambino impara a progettare la sua azione nel mondo e a conferirle uno scopo. Ecco, questo è un aspetto, un'intuizione, come dicevo, particolarmente importante perché gli studi che si stanno facendo attualmente sul cervello attraverso le tecniche che permettono appunto di analizzarlo mentre in azione, hanno portato i neuroscienziati, la scuola di Parma, di Rizzolatti e di Gallese, nota per la scoperta di neuroni specchio, ma non solo, su questo punto convergono tutte le ricerche in campo neuroscientifico, a dire che il nostro cervello agisce sempre in base a uno scopo e la finalità è uno dei presupposti fondamentali del funzionamento del cervello. Vi faccio un esempio ben preciso. Voi tutti conoscete la differenza tra salto in alto a scavalcamento ventrale e salto in alto a scavalcamento dorsale. E sapete anche che mentre fino a qualche decennio fa lo scavalcamento ventrale era la tecnica utilizzata da tutti perché sembrava rispondere a quello che era intuitivamente il movimento più consono allo scopo per superare l'asticella, io devo continuare a guardare l'alticella fino all'ultimo. in termini di marketing si direbbe non devo mai tralasciare di vedere il target, cioè l'obiettivo che devo raggiungere, in questo caso l'asticella che devo scavalcare. Finché a un certo punto qualcuno mise in atto una innovazione apparentemente insensata, cioè quella di correre verso l'asticella e poi arrivata a un certo punto del movimento voltare le spalle all'asticella e scavalcarla con il dorso e non con il ventre. Ebbene questa seconda tecnica si è dimostrata molto più redditizia della prima ed è stata per questo adottata pressoché dalla quasi totalità dei saltatori in alto. perché vi segnalo questa differenza? Perché chiaramente qui il tipo di movimento e i muscoli impiegati nell'uno e nell'altro caso sono differenti, sono radicalmente differenti nello scavalcamento ventrale in quello dorsale. Eppure dal punto di vista dei processi cerebrali implicati, i processi cerebrali coinvolti nell'uno e nell'altro caso sono i medesimi a dimostrazione del fatto che per il cervello quello che è importante è non il tipo di movimento o il tipo di muscolo che viene impiegato ma l'obiettivo che deve essere raggiunto, cioè lo scopo. Ecco, l'azione è esattamente un movimento diretto verso uno scopo e questo scopo è tanto più importante perché nel caso appunto del rapporto con il paesaggio come aveva intuito Bieli è ciò che dà significato e conferisce senso al paesaggio e ai movimenti che noi facciamo all'interno di esso. Quindi, secondo Bieli la vita del bambino e di ciascuno di noi come persona si sviluppa a partire da un'antinomia radicale quella tra due poli metaforici del liquefatto cioè del caos dell'informe di ciò che non ha ancora forma e a cui bisogna dar forma pensate alla forma dell'acqua di cui parla Camilleri ad esempio alla struttura allo schema a ciò che acquisisce un ordine ecco vi ho segnalato questo perché di recente in anni più recenti uno scrittore italiano molto molto nutrito anche di cultura filosofica e cioè Andrea Zanzotto ha fatto degli studi estremamente significativi e penetranti sul concetto di paesaggio rafforzando l'idea del paesaggio come lingua madre e i suoi studi sul paesaggio sono stati raccolti Zanzotto è morto nel 2011 studi trentennali sul paesaggio sparsi in vari scritti sono stati recentemente raccolti in un volume dal titolo luoghi e paesaggi in cui ci sono delle osservazioni veramente molto interessanti e penetranti e che riprendono ecco per questo che ho voluto istituire questa relazione in gran parte alcune delle intuizioni di Andrei Bieli leggiamo questa questa slide Zanzotto dice che nello spazio transizionale tra madre e bambino in quell'intreccio inestricabile tra la dimensione affettiva e quella cognitiva si produce la l'allazione il balbettio il petel la lingua con cui le madri si rivolgono ai neonati che rappresenta quel linguaggio preverbale appunto quella lingua madre dalla quale poi nascerà il nostro linguaggio il paesaggio che irrompe nell'animo umano sin dalla prima infanzia con tutta la sua forza dirompente è come la lingua madre ecco l'alalang questa lingua del paesaggio precede l'alfabeto e la grammatica è la lingua che si mescola al corpo non è qualcosa che esce dal corpo ma è tutt'uno con esso nell'espressione dell'essere umano ecco qui avete da parte di Zanzotto come dicevo la cognizione del fatto che il linguaggio la lingua verbale non è qualcosa di distinto dalla lingua del corpo dalla lingua che si sviluppa attraverso il movimento e l'azione dell'uomo nel paesaggio ma è qualcosa che si mescola adesso per cui noi non possiamo fare una distinzione tra la genesi della lingua verbale e la genesi del linguaggio corporeo perché inizialmente per il bambino si tratta di un processo assolutamente inestricabile qui devo ricordare la lezione di un altro grande pensatore russo pedagogista questa volta il fondatore della pedagogia moderna e cioè Vigoschi Lev Vigoschi che in pensiero e linguaggio sottolinea un fatto che appunto ricorda molto queste posizioni che sto ricordando e cioè il fatto che la lingua verbale nasce come sviluppo e progressiva distinzione dal linguaggio interiore il bambino sviluppa una forma di linguaggio il linguaggio interiore il linguaggio attraverso il quale parla a se stesso e parlando a se stesso si struttura e si forma e questo linguaggio interiore che si presenta e dà forma al pensiero è qualche cosa dal quale poi si distacca progressivamente la lingua verbale ma secondo Vigoschi il linguaggio interiore non cesserà mai di essere presente all'interno della vita culturale dell'uomo che è fatta proprio di questa continua dialettica tra linguaggio esteriore e linguaggio interiore ecco quindi come vedete noi abbiamo posizioni alle quali si sta arrivando con gli sviluppi della scienza contemporanea e che sono stati significativamente anticipati come ho detto già all'inizio del novecento da poeti e scrittori se oggi noi volessimo poi diciamo configurare come stanno le cose per quanto riguarda il nostro rapporto con il paesaggio dal punto di vista della ricerca scientifica dobbiamo fare riferimento a un aspetto particolarmente interessante e cioè il fatto che nell'ambito della meccanica quantistica cioè degli sviluppi della fisica ci sono posizioni di diversi autori ne cito una per tutti il modello sviluppato da un fisico italiano Giuseppe Vittiello che lavora all'università di Salerno insieme ad alcuni neuroscienziati americani che parla di una relazione molto stretta tra il cervello e l'ambiente e addirittura richiede che sulla base degli sviluppi della fisica contemporanea non solo non sia possibile distinguere in maniera radicale il cervello dall'ambiente ma sia addirittura necessario descrivere l'ambiente come il doppio del funzionamento del cervello da che cosa deriva questa posizione che è interessante per alcuni aspetti non entro nei particolari ma ve la cito perché appunto presenta aspetti interessanti dal fatto che il cervello è ovviamente un sistema aperto che scambia e non potrebbe non scambiare energia informazione e materia con l'ambiente circostante e ciò nonostante in questo scambio continuo con l'ambiente il cervello mantiene ben fermo un suo profilo una sua organizzazione interna che gli permette come ho detto di strutturare e di organizzare l'ambiente come si spiega questa duplice e apparentemente antinomica situazione cioè l'aspetto per il quale il cervello interagisce continuamente con l'ambiente ne riceve stimoli che chiaramente ne modificano la dinamica interna e dall'altro che riesce ciò nonostante a mantenere ben organizzato e strutturato il proprio campo interno secondo questi autori secondo questo modello ciò si spiega con il fatto che l'ambiente è sostanzialmente il lo specchio a tempo invertito del funzionamento del cervello che cosa vuol dire vuol dire che la cosa può essere spiegata abbastanza facilmente ciò che per il cervello è un input per l'ambiente è un output cioè se io chiaramente ad esempio respiro assumendo dall'ambiente tutti i flussi che nell'ambiente posso trovare ciò che l'ambiente dà a me come input come valore in ingresso per me è un valore in ingresso per l'ambiente chiaramente è un valore in uscita quando io invece espiro ciò che per me è un valore in uscita per l'ambiente è un valore in ingresso come si fa a stabilire questo rapporto diciamo tra dinamiche in ingresso e dinamiche in uscita semplicemente invertendo il valore del tempo nel rapporto tra il cervello e l'ambiente ora questo è un aspetto molto importante perché fa entrare nel rapporto tra ambiente e cervello ve l'ho ricordato semplicemente per questo come momento fondamentale il problema del tempo e della memoria i sistemi chiusi i sistemi chiusi i sistemi che non scambiano energia materia o informazione con l'ambiente non sono capaci di memoria non hanno una memoria ben sviluppata soltanto i sistemi aperti conservano una memoria delle relazioni dinamiche che hanno appunto con l'ambiente esterno questa memoria ecco come va interpretata questa memoria ci sono degli studi molto interessanti sul rapporto tra cervello e memoria e tra tempo e memoria ve ne segnalo uno in particolare che è dell'autore del neuroscienziato al quale si deve lo studio e la denominazione stessa di intelligenza emotiva che ha portato a parlare da una decina di anni a questa parte non di più di pluralità delle intelligenze è bene che voi sappiate lo sapete certamente che fino a non più di 15 anni fa l'intelligenza quando si parlava di intelligenza ci si riferiva soprattutto anzi esclusivamente all'intelligenza cognitiva sono stati gli studi di questo autore che si chiama Joseph Ledoux a portare a introdurre la nozione di intelligenza emotiva facendo anche una ricostruzione che permette di capire qual è il tipo di struttura e di dinamica di questo tipo di intelligenza voglio soffermarmi in particolare su questo aspetto perché credo che sia di specifico interesse per voi studenti di qualunque ordine scolastico in un libro dal titolo L'errore di Cartesio un grande neurochirurgo e neuroscienziato americano di origine portoghese e cioè Antonio Damasio mette in evidenza un fatto che a prima vista lo lascia assolutamente perplesso cioè opera come neurochirurgo un funzionario di banca che aveva un una grande autorevolezza un grande carisma un quotiente di intelligenza molto alta la capacità di dirigere il proprio personale con grande autorevolezza lo opera a un tumore che aveva colpito la parete frontale del cervello e come sempre succede in questi casi gli fa dei test di vario tipo di intelligenza prima e dopo l'operazione ebbene quello che risulta dopo l'operazione è che sotto il profilo dei test di intelligenza l'operazione non aveva prodotto nessun danno i valori erano esattamente gli stessi precedenti all'operazione era però cambiata una cosa fondamentale la cosa che era cambiata era l'interesse di questo soggetto nei confronti delle proprie azioni il paziente cominciò a dire a chi lo interrogava che delle prove a cui veniva sottoposto degli stessi suoi destini dopo l'operazione non gli interessava assolutamente nulla era piombato in uno stato di indifferenza pressoché assoluta nei confronti di tutto ciò che gli capitava sulla base di queste risposte degli approfondimenti successivi Damasio cominciò a intuire l'idea che ci fosse una differenza radicale tra intelligenza cognitiva cioè capacità di affrontare i problemi e di risolverli e intelligenza emotiva che regola invece il coinvolgimento e la partecipazione del soggetto agli eventi in cui il soggetto medesimo è implicato e arrivò a formulare anche una ipotesi particolarmente impegnativa e cioè che senza l'intelligenza emotiva che regola e assicura il coinvolgimento e la partecipazione l'intelligenza cognitiva di per sé rischia di essere un valore poco utile e poco funzionale è come se voi a scuola aveste la capacità di seguire e affrontare diciamo le diverse prove a cui venite sottoposti ma non vi interessasse nulla dal punto di vista personale del tipo di prove stesse a cui venite sottoposti ecco sulla base di questa prima intuizione di Damasio l'EDU che ha pubblicato di recente di cui è stato pubblicato di recente da Cortina un libro particolarmente importante dedicato all'intelligenza emotiva che si intitola Ansia come guarirla e come gestirla ha studiato l'intelligenza emotiva ne ha seguito i percorsi ed è arrivato a due conclusioni che voglio ricordarvi perché sono particolarmente importanti visto appunto il ruore la funzione che l'intelligenza emotiva ha nei processi di partecipazione e di coinvolgimento cioè ha detto innanzitutto che dobbiamo distinguere in ciò che chiamiamo sentimenti cioè ha paragonato i sentimenti a un iceberg e ha detto nei sentimenti in ciò che chiamiamo sentimenti c'è una parte sommersa preponderante fatta di reazioni reazioni automatiche cosa vuol dire reazioni automatiche che noi non controlliamo da cui siamo gestiti piuttosto che gestirle è una forma di elaborazione secondaria a carattere cognitivo che noi chiamiamo appunto sentimento vero e proprio vi faccio degli esempi come si manifesta la paura inizialmente la paura si manifesta sotto forma di accelerazione del battito cardiaco di pallore sudiamo freddo tremolio delle gambe e via dicendo tutte queste non sono reazioni da noi volute sono reazioni incontrollate di fronte del nostro corpo di fronte a un qualcosa che provoca questo sentimento la paura però dice Ledoux queste reazioni incontrollate non le possiamo chiamare sentimenti non sono ancora sentimenti sono metafore del profondo che noi non controlliamo appunto e dalle quali siamo gestite che cos'è invece il sentimento della paura è quella forma di elaborazione a livello secondario che noi facciamo appunto di queste reazioni istintive primarie per cui nel sentimento dobbiamo distinguere la parte non controllata automatica inconscia che non è sentimento in senso proprio dalla parte in cui interviene la coscienza che fa un lavoro di elaborazione secondaria e che chiamiamo sentimento vero e proprio ciò vale per la paura ma vale dice Ledoux per tutti i sentimenti ad esempio per l'amore anche l'amore il cosiddetto colpo di fulmine si può manifestare sotto forma di reazioni istintive e non controllate come l'accelerazione del battito corporeo rossore e via dicendo queste sono manifestazioni primarie dell'amore che però non possono essere definite sentimento di amore vero e proprio ecco all'interno di questa configurazione dei sentimenti che come ho detto è cruciale dal punto di vista della vita dell'uomo come si configura il problema del rapporto con la memoria e con i ricordi cioè che cosa sono i ricordi per ciascuno di noi e come gestiamo i ricordi ecco questo è un punto credo particolarmente interessante per voi che studiate e accumulate esperienza e le immagazzinate sotto forma di ricordi era uscito da una decina di anni prima che l'EDU iniziasse queste ricerche un libro molto importante di Edelman Edelman è un neurobiologo che ebbe il premio Nobel per la biologia e medicina per la scoperta del funzionamento del sistema immunitario ha scritto un libro dal titolo Il presente ricordato in cui avanza una teoria della memoria totalmente in antitesi rispetto alle concezioni fino a quel momento correnti della memoria le concezioni correnti erano quelle secondo la quale la memoria è un processo che va dal passato al presente e che in qualche modo si presenta sotto forma di ritorno nel presente di qualche cosa che era accaduto nel passato Edelman rovescia questo schema e dice che la memoria in realtà è un processo che va sempre dal presente al passato nel senso che l'esperienza di ciò che sto vivendo in questo momento qui e ora nel presente che come ha generalmente descritto Proust nel nel suo romanzo dedicato appunto alla memoria e al tempo in virtù di un'analogia reale o immaginata con qualche esperienza vissuta nel passato mi porta a ripescare dal passato qualche episodio che io leggo alla situazione presente che sto vivendo per cui secondo Edelman la memoria è sempre frutto di una relazione analogica di un'analogia tra una situazione che sto vivendo e una situazione vissuta nel passato e questa relazione analogica non va dal passato al presente ma appunto è qualcosa che si determina nel presente e va a ripescare e a riattualizzare qualche cosa che abbiamo vissuto nel passato ebbene Ledoux attraverso i suoi studi sul cervello conferma pienamente la correttezza di questa visione di Edelman e la rinforza addirittura dicendo nella parte finale del suo libro circa a due terzi che il ricordo ciò che chiamiamo ricordo non soltanto segue questa dinamica che Edelman appunto aveva fatto presente ma per rimanere ha bisogno di essere continuamente nutrito di nuova informazione quindi non soltanto il presente lo richiama il ricordo ma il presente fa rivivere e mantenere il ricordo perché se il ricordo non viene nutrito di nuova informazione il ricordo tende la memoria e il ricordo in cui essa si estrinseca tende a perdere qualunque tipo di significato per noi lo vediamo non è la retorica lo vediamo nelle cronache quotidiane non è la retorica del 25 aprile o della Shoah che ci aiuta a mantenere vivo il ricordo di questi processi storici se noi non nutriamo se ciascuno di noi non nutre questi eventi del passato di nuova informazione che lo riattualizzi e gli conferisca valore per la propria vita così come è ora questo ricordo rischia di svanire o di rimanere semplicemente sotto forma di appello retorico quindi non soltanto il ricordo deve essere richiamato dal presente ma dal presente deve essere nutrito di nuova informazione e questo è il primo aspetto il secondo aspetto che Ledoux mette in evidenza è l'incidenza fondamentale delle emozioni e delle relazioni emotive nella dinamica dei ricordi Ledoux cita un'esperienza e uno studio molto interessante che ha coinvolto una quantità enorme di persone cioè le persone che hanno avuto modo di assistere direttamente come testimoni alle tragiche vicende dell'11 settembre a New York ebbene queste testimonianze testimoni visivi presenti sul luogo quindi qui non c'era il racconto c'era la visione diretta sono state raccolte e catalogate e si è visto un fatto estremamente significativo che ci fa capire meglio in che cosa consista la dinamica della memoria e cioè che c'era una scarsissima convergenza nei racconti tra questi testimoni nonostante fossero tutti testimoni oculari i loro racconti si differenziavano per parti estremamente significative e analizzando in profondità queste differenze si è scoperto che queste differenze erano in gran parte determinate dalla diversa reazione emotiva che ciascuno dei testimoni aveva avuto di fronte a questo evento il che significa ecco ritornando alle cose che abbiamo visto che non è la vista in maniera incondizionata che determina i nostri rapporti con l'ambiente con il paesaggio e con tutto ciò che vi capita e non è soltanto l'intelligenza cognitiva che ci permette di leggere e interpretare ciò che accade all'interno di questo ambiente ma è anche l'intelligenza emotiva che crea un contesto all'interno del quale il paesaggio l'ambiente e ciò che si succede all'interno di esso sono interpretati in maniera radicalmente differente quindi da questo punto di vista e torno al paesaggio come dobbiamo interpretare allora il paesaggio se sono vere tutte le cose tutti i tasselli che abbiamo cercato di mettere a punto come dobbiamo interpretare il paesaggio che cos'è allora il paesaggio come lingua madre il paesaggio come lingua madre secondo queste visioni è il risultato di un fenomeno di continua ricomposizione del mondo esterno nell'universo interiore del soggetto universo interiore del soggetto fatto come abbiamo detto di vista ma anche di immaginazione di reazioni emotive e di interpretazioni cognitive quindi il paesaggio è frutto di questo rimescolamento continuo di questa dinamica instabile che si ristruttura continuamente tra la realtà esterna e l'universo interiore vi voglio semplicemente far vedere una immagine secondo me molto significativa che vi fa capire come nella interpretazione visiva nella vista in ciò che noi diciamo di vedere l'immaginazione come aveva intuito peraltro Leopardi nel suo concetto di visione doppia svolga un ruolo fondamentale guardate queste due immagini chiaramente in queste due immagini non c'è altro che un gioco di rami di albero secchi sullo sfondo di un ambiente chiaro eppure credo nessuno di noi può fare a meno di vedere in queste immagini il delinearsi progressivo di un volto e questo di due volti di donna e diciamo questa immagine insieme a tante altre che potremmo proporre mi fa capire che il rapporto tra visione e immaginazione è un rapporto molto più stretto di quanto si possa pensare al punto di aver indotto alcuni neuroscienziati a partire da Eric Candel premio Nobel per la fisica per la biologia e medicina per la scoperta di come funzionano i processi di apprendimento e la memoria a dire insieme a tanti altri che ciò che noi chiamiamo realtà esterna è una fantasia che coincide singolarmente con la realtà fantasia perché nella costruzione di questa relazione l'immaginazione ha un ruolo che non può essere in nessun modo sottacciuto o dimenticato un altro aspetto ed è il penultimo e poi chiudo vi voglio sottoporre guardate questa immagine questa immagine vi fa capire un'altra cosa interessante e fondamentale e cioè il fatto che spesso la nostra vista molto più spesso di quanto noi pensiamo si trova di fronte a immagini che ci propongono una possibilità di interpretazione multipla e non sono soltanto le notissime figure ambigue che ci mostrano questo ma anche immagini di questo tipo che come vedete possono essere lette come un'immagine di profilo o come un mezzo volto visto di fronte tutte queste due entrambe queste letture sono assolutamente legittime sulla base dello stimolo che questa immagine ci propone ma quello che noi non possiamo fare è vedere entrambe le figure contemporaneamente non possiamo vedere contemporaneamente il volto di profilo e frontale per cui nella visione di queste immagini si registra un fenomeno che la fisica contemporanea comprende molto bene che Niels Bohr ha chiamato principio di complementarità un principio secondo il quale noi non ci possiamo mai fare una immagine esaustiva del mondo perché spesso per costruirci queste immagini esaustive abbiamo bisogno di informazioni che sono in conflitto tra di loro che non possiamo racchiudere all'interno di un modello unificante come vedete qui in questo caso l'immagine di profilo è un'informazione l'immagine frontale è un'altra informazione queste immagini sarebbero entrambe necessarie per descrivere compiutamente ciò che vediamo ma queste due immagini non le possiamo comporre all'interno di un unico modello e quindi da questo punto di vista la fisica con la teoria della complementarità ci dice qualcosa di interessante ai fini di questo rapporto chiudo con una sottolineatura che vale la pena di evidenziare e cioè è questa la fisica contemporanea con la meccanica quantistica ci parla di azione del soggetto osservante sull'oggetto di studio azione che può modificare e di fatto modifica l'oggetto di studio per cui contrariamente a ciò che diceva la fisica classica nella fisica contemporanea l'azione del soggetto che osserva studia e misura è un processo dal quale noi non possiamo prescindere ecco ultimamente questo concetto di azione che modifica è entrata anche nel concetto di paesaggio e vi è entrata in virtù di questa fotografia di un fotografo americano Richard Lang in cui come vedete il paesaggio che viene ripreso porta le tracce vedete la striscia centrale del cammino che il fotografo ha seguito all'interno del paesaggio medesimo per scegliere l'inquadratura migliore per cui questa foto porta non soltanto impresse in sé non soltanto il tipo di punto di vista a partire dal quale il fotografo ha ripreso il paesaggio ma porta anche la traccia fisica della sua azione sul paesaggio medesimo che l'ha modificato per cui e con questo chiudo oltre all'idea del paesaggio come frutto di una ibridazione continua tra realtà esterna e universo interiore del soggetto che si manifesta sotto forma di incidenza come abbiamo detto dell'intelligenza cognitiva e dell'intelligenza emotiva vi è un ulteriore elemento di cui tener conto cioè l'azione fisica il gesto il movimento come dicevo all'inizio del soggetto che modifica il paesaggio e che diventa un elemento primario e imprescindibile per la lettura e la comprensione del paesaggio medesimo vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti